E' una partita molto insidiosa, una partita molto difficile, una partita complicata, è una squadra sicuramente di talento che in questo momento secondo me non rispecchia esattamente il valore della sua classifica ed è una squadra ferita, una squadra ferita da cui è un momento abbastanza non positivo per loro e quando vai a incontrare una squadra ferita è sempre ancora più insidiosa di quella che già dovrebbe essere perché comunque trovano sempre delle motivazioni extra e quale partita migliore contro Udine per poter veramente tirar fuori tutte queste motivazioni extra, giocare in maniera leggera, senza troppi pensieri e cercare di fare una partita di grande intensità e grande concentrazione e tosta. Già due precedenti tra queste due squadre in questa stagione, due vittorie per i bianconeri però è cambiato tanto rispetto all'ultimo incontro di campionato a cominciare dalla presenza di uno straniero in più che è Cole. Sì, è cambiato tanto, hanno cambiato anche un po' il loro modo di giocare, di stare in campo, di distribuire i palloni e di giocare in maniera differente, quindi sicuramente hanno Cole che dall'Arcoli può creare molti più problemi anche in uno contro uno in situazioni isolamenti, quando comunque metti in campo in squadra un giocatore realizzatore, uno scorer in più è sicuramente un'attenzione differente anche dal punto di vista difensivo per le altre squadre e soprattutto le due partite precedenti le abbiamo giocate in casa, quindi andare a giocare a Cividale è un campo comunque dove il pubblico si fa sentire. Le ultime due partite dei bianconeri invece hanno portato delle certezze, hanno dato delle conferme a voi dello staff per motivi diversi? Sì, noi siamo sempre consapevi di quello che abbiamo nella nostra squadra, di come siamo arrivati in quella settimana alla partita, di quello che abbiamo lavorato, su quello con cui abbiamo lavorato, su quello che dobbiamo continuare a lavorare, le certezze ce le abbiamo, le abbiamo sempre avute, la nostra certezza principale è che è un gruppo comunque di ragazzi eccellenti, è un gruppo di ragazzi che si allena sempre al massimo e sa sempre cosa deve fare quando entra in campo, ognuno ha il proprio ruolo ed è definito anche all'interno di loro stessi qual è il ruolo all'interno della squadra e la nostra forza, la nostra certezza, la nostra forza in questo momento è proprio quella.